let's go baby in questa puntata di nella mente di power vi spiegherò la tecnica del pinch in questo caso applicata a ctf ma si può usare anche su harpoint è indifferente cosa vuol dire pinch? vuol dire andare da due lati ma da due lati in uno in cui si dovrebbe andare e in uno in cui non si dovrebbe andare quindi invadendo anche lo spawn cosa si fa in questo caso? si prendono i nemici da dietro e si sfrutta il fatto di essere tutto il team e di muoversi insieme alla flag in questo caso o verso la postazione per conseguire l'obiettivo che è di portare ovviamente la flag ora che state vedendo ctf comunque in questo caso vedete che ci sono colga e frido che si trovano verso garage quindi invadono lo spawn principale di back alley di garage e donni e ora io che sto andando verso i donni a bloccare lo spawn della strada che porta verso la banderia già ora vedrete appena metterò play che i nemici che sono morti che sono kyle e robs rinasceranno fuori dalla terza postazione questo vuol dire che abbiamo pinchato ora vedrete quello che succede allora per qualcosa ci muoviamo ora frido fa una kill ne uccide uno e donni che arriva da dietro e nessuno l'aveva notato fa una doppia quindi possiamo prendere la flag e uno invece scappa al centro ma non c'è nessun problema ora per sfortuna una persona rinasce dietro di noi che è momo rinasce in blu e continua verso la nostra flag ma non importa noi sappiamo dove sono i nemici sappiamo da che lato stanno passando ora fermo un secondo come avete visto la flag non è passata in questo caso dal lato di bricks che sarebbe il lato quello lì verso che sarebbe la bomba di b se non sbaglio di cerchi e distruggi ma è passata verso il blu perché questo? perché è più sicuro bloccare lo spawn di blu quando si fa il pinch cioè due in garage due in questo caso nella strada di blu che farla passare in quel lato perché un nemico potrebbe spawnare sempre lì vicino come avete visto infatti subito come è passata al centro la flag avete visto i nemici sono spawnati nella zona di garage come vedete una persona che è momo che era rinata in blu per sfortuna ci abbiamo avuto veramente sfiga una questione di timing ha preso la flag ma non c'è problema come avete visto noi ci siamo tutti mossi dalla flag loro in quattro siamo tornati indietro anche se qualcuno è morto ovviamente quello che muore poi ritorna in flag quindi non c'è nessun problema ora ci basta tagliare i nemici che è quello di cui mi occuperò ora io come ora vedrete io mi occuperò di tagliare i nemici a centro mappa mentre i miei compagni si concentreranno a bloccare i nemici che io non riesco a prendere o a vedere e a riportare la flag ora vedrete uno e continuiamo così come vedete la flag è accanto a me non deve correre può tranquillamente stare ferma un secondo io continuo a fare le kill cercando di bloccare i nemici come vedete so dove spawnano in garage infatti mi posiziono uno due che spawnano via con le spawn kill ho bloccato i rinforzi che potevano aiutare Momo che come avete visto ora è morto che aveva la nostra flag ho bloccato i nemici che potevano andarlo ad aiutare sulla strada quella della seconda postazione e allo stesso tempo ho coperto la flag che è potuta andare liberamente in base e tra l'altro è potuta andare a prendere le streak perché ovviamente ha ripreso la bandiera ha fatto le kill eccetera eccetera spero di avervi spiegato la tattica del pinch applicata in questo caso a slumps magari vedrò di farla vedere anche per quanto riguarda in impostazione quindi bella raga al prossimo video mi raccomando forza inferno la divina di due